Il carattere cinese che significa medicina deriva in realtà dal carattere che significa musica. Riflette la saggezza dei nostri antenati che comprendevano l'importanza dei metodi di guarigione cimatica. Avevano una profonda conoscenza delle composizioni musicali e degli effetti delle varie frequenze sonore sul corpo umano, sia benefiche che dannose. Grazie a tutti.